Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, Regina del mese di maggio e Madre degli uomini, eccoci intorno a te come ritornati da un lungo cammino. Stremati da un lungo peregrinare, siamo in cerca di pace e di felicità. Tu sola puoi ridonarci la speranza. Il tuo sorriso ci faccia dimenticare tante cose che ci angustiano. In questa primavera dell'anno ritorniamo a te per sentire la tua voce materna, stimolatrice e affettuosa, ammonitrice e dolce. Dopo i nostri paurosi sbandamenti ritorniamo a te perché tu ci indichi la strada da percorrere, quella insegnata da Cristo, ai Suoi seguaci. Noi ritorniamo a te per illuminare del tuo sorriso le realtà di ogni giorno, i problemi che attendono soluzioni, i doveri che ci incombono. Guidaci a risoluzioni impegnative, capaci di rifare un mondo stanco e affamato di felicità. Maria, tu ci conosci, sei quello che vogliamo, ciò che possiamo fare, quello di cui abbiamo bisogno. Aiutaci a conseguirlo. I vari giorni del tuo mese siano tanti anelli di una dolce e splendida catena che ci stringe sempre più a te. Aiutaci a stare sempre accanto a te, o Regina dell'Universo, o Madre di tutti. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.